eccola qua eccola Diana benvenuta ciao ciao a tutti grazie di trovi io mi trovo in una tavernetta in evoluzione che cambia sempre fantastico perché location particolare la tavernetta è il tuo bunker sì esatto il tuo rifugio dove ti ritiri a studiare esatto sì dove si trova la pace ma che bello questo posto perché ho detto dov'è cos'è bello vuoi dire a Diana nel tempo che impiegheremo per collegarci ti raccontiamo che noi qui siamo un po quanti suoi fan ci hanno scritto ieri sì ti racconto intanto che noi in questo momento siamo in diretta streaming sulla pagina di facebook di radio in fra un minuto ti ripresentiamo appena finisce il brano che c'è alla radio per chi ci ascolta soltanto in audio attraverso la cara vecchia radio e nel frattempo dicevo stavo raccontando poc'anzi prima della pubblicità a Ivan che ieri mi arrivavano i messaggini dei tuoi fan ma che ora è mamma noi riusciamo a vederlo ma c'è lo streaming ma dove noi non vogliamo perderci Diana dobbiamo vederla insomma quindi c'è questo tuo grande pubblico che ti segue con grande affetto e che ci tiene a farti sapere che c'è che bello grazie in privato ti chiedo chi è ma sai dietro i nickname dei social non è facile riuscire anche magari a distinguere però è carino anche questo spostiamoci alla radio facciamo la presentazione con l'ufficiale abbiamo ascoltato Miley Cyrus con Flowers e adesso siamo nuovamente all'interno del nostro pen dei cinema su radio in Ivan Shinardo abbiamo conservato all'ultimo un'altra bellissima ospite il nostro regista non poteva scegliere brano migliore con un titolo come Flowers quelli che noi metaforicamente simbolicamente consegniamo a una bellissima attrice italiana né veri né metaforici fiori dopo due anni e mezzo sei un fiore sempre ma che vuol dire ma non me la bevo questa benvenuta Diana Diana dell'erba grazie 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 a voi per l'invito Diana è con noi per presentarci e raccontarci il film che uscirà in sala il prossimo 2 marzo giovedì è l'uomo che disegno dio ci siamo abituati a vederlo in una filmografia quasi di 50 anni ma questa volta per la seconda volta è dietro la camera che dietro e davanti comunque Diana Franco Nero attore orgoglio italiano che interpreta un ruolo particolare ho visto il trailer lo condivideremo poi su facebook che interpreta un cieco ecco raccontaci di questa tua esperienza tu sei fiamma nel film sì sì l'uomo che disegno dio racconta la storia di Emanuele un uomo non vedente che nonostante la sua cicità riesce a dipingere le persone di fronte solamente ascoltandone la voce è una storia ispirata a alcune storie vere accadute perciò già questo molto interessante ed è un film molto bello a mio parere molto intimo con dei tratti drammatici dei tratti comici che ha tanti temi ha tantissimi temi diversi in primo luogo secondo me il tema della rinascita perciò tutti i personaggi in qualche modo hanno un'evoluzione scusate hanno un'evoluzione e cambiano parecchio durante durante il film e perciò trovano qualcosa di sé che in qualche modo avevano accantonato o al quale non avevano più pensato ed è sì un film sulla cecità ma in realtà sulla cecità è intesa come incapacità di vedere l'altro incapacità di incontrarci incapacità di essere empatici e comprenderci perciò in realtà parla di intolleranza e anche molto di apparenza c'è un trailer bellissimo Diana lui interpreta un insegnante di ritrattistica ricordiamo la regia è di eugenio masciari che ha scritto la sceneggiatura assieme a lorenzo de luca è un tema forte che comunque apre anche a degli scenari e sulla disabilità e non solo importanti sì assolutamente di fatti abbiamo anche diverse bellissime collaborazioni con varie associazioni di non vedenti di fondazioni che si occupano in qualche modo di persone in difficoltà perciò è un film che anche aperto in questo senso dei dialoghi che sono molto importanti ci diamo il tempo di un brano quindi facciamo ascoltare nilenox chi è sintonizzato su radio in tutti gli altri vi invitiamo a raggiungerci sulla pagina facebook perché abbiamo qualcosa da guardare insieme e vogliamo vedere le immagini proprio del trailer l'uomo che disegnò dio guardiamo mister seconda vista per tutti soltanto è una persona cieca però ha fatto questo non è incredibile mi serve una sistemazione temporanea per due persone roba di pochi giorni scordate sto bene da solo pola mi ha pioppato due immigrate madre e figlia sarà pure cieco ma lei è proprio uno uno stronzo lo dica pure tu sapresti fare anche il ritratto di dio dovrei sentire prima la sua voce il video sta diventando virale guarda è un ricerco vecchio solo al mondo ma un dono straordinario può farti un ritratto preciso e sputato gli basta sentire la tua voce ti ho visto in tv lo sai vederti come un animale da circo ho pensato che anch'io ero solo prima di incontrare te mamma ma lei alla sua età che cosa le può offrire io potrei dar loro tutto ciò di cui hanno bisogno io non posso faticare non c'è bisogno quello è un truffatore e quindi lei lascia che sua figlia giri per il parco con questo buon uomo che avete appena conosciuto non importa se lei è colpevole conta solo la percezione che il pubblico ha di lei sui media copritevi gli occhi e se non volessi tornare in televisione non puoi mollare ora che sei vicino la meta che meraviglia Eliana due giorni dall'uscita potere raccontare un film che ha un cast Diana straordinario Faye Dunaway Kevin Spacey doppiata da quel magistrale veramente doppiatore italiano con voce inconfondibile Massimo Ranieri è stato bello lavorare in questo film sì sicuramente lavorare con nomi del genere è molto arricchente ogni piccola azione che fanno può essere di grande ispirazione perciò ogni volta che mi ritrovo in set del genere sto con gli occhi spalancati veramente a tentare di carpire qualsiasi cosa sono mostri sacri sì c'è qualcosa in particolare che ti ha colpito un aneddoto un momento che ti è rimasto più impresso? ma la giornata sicuramente che a tutti quanti penso tutta la troppo tutto il cast è rimasta nel cuore è stata una giornata nella quale abbiamo girato all'interno di un circo un tendone di un circo il circo Medini fuori era estate faceva caldissimo e dentro non potevamo tenere acceso nulla che potesse rinfrescare e perciò abbiamo raggiunto delle temperature elevatissime non ho idea quanto ma ci sono stati 50 gradi ed è stato bello ed è stato per me bello nel senso che abbiamo condiviso questa difficoltà che comunque ci ha ci ha unito tanto senti Diana torniamo in radio abbiamo visto il trailer dell'uomo che disegnò Dio abbiamo potuto vedere una carrellata di nomi impressionanti del mondo del cinema e non solo perché c'è anche Massimo Ranieri premio Oscar ci sono nomi straordinari in questo lavoro so che Ivan ha mille domande per Diana come sempre poi grazie grazie per questo dono che ci hai fatto del tuo showreel che faremo vedere ai tuoi fans che io ho apprezzato moltissimo avendolo ricevuto prima e quindi adesso fra poco ritornando su Facebook lo faremo vedere per cui a due giorni dall'uscita di questo lavoro l'occasione è anche importante per raccontare il tuo percorso artistico e professionale fin dai tuoi esordi tu ti sei formata con un attore grandioso che è appunto Mamadou Dioumé ho pronunciato bene il suo nome esatto ecco raccontaci un po' hai molti ascoltatori aspiranti attori, attrici per cui le tue parole saranno perle di saggezza per loro sì, Mamadou è un grande maestro per me che rimane sempre profondamente nel mio cuore mi ha insegnato tantissimo non solo dal punto di vista recitativo ma soprattutto dal punto di vista umano lui ancora tiene corsi, seminari in giro per l'Italia perciò assolutamente invito gli aspiranti attori a cercarlo perché lui come tanti altri sostiene che il vero attore può essere solamente il vero uomo perciò colui che riesce veramente a entrare nelle profondità di se stesso e vedere luci e ombre può portarle in scena senti un esordio al cinema nel 2004 con Peter Greenway nel 2010 hai partecipato a un film internazionale che appunto Rasputin ha interpretato il ruolo della zarina cosa ti rimane? sono passati ormai 13 anni eri Aleksandra Fedorovna Romanova raccontaci di questa tua esperienza e poi vedremo il tuo showreel da tanto che non ci penso abbiamo riuscito a Russia a Torino anzi in Piemonte è stata un'esperienza molto bella un set anche quello come l'uomo che disegna Dio tutto nella stessa location che è importante un avvenimento che non capita sempre ho fatto di tutto sono morta ho partorato in quel film ho fatto di tutto però non in quest'ordine giusto? no non credo che ci fosse un flashback perciò no senti Diana mi fa molto piacere leggere dal tuo curriculum il debutto alla regia con un film documentario appunto la regia firmata al femminile con Maria De Medeiros e Lina Vermeuler era il 2014 sì ho voluto fare questa follia di realizzare appunto un film documentario sulla regia italiana firmata al femminile per appunto porre l'attenzione quando non era così di moda come oggi sul fatto che solamente sette registe su cento registi siano donne e perciò sono andata a intervistare la maggior parte delle registe italiane ma tu pensa Diana che noi abbiamo aperto con la vicepresidente dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema Valentina Noia con una rassegna che si chiama sette sere per sette registe quindi questo film rouge che è collega per trovarne sette sono andate sul campo internazionale esatto lei nel 2014 ha voluto appunto fare questo lavoro di cinema del reale proprio sulla regia al femminile e poi c'è questo lavoro internazionale The Broken Key dove tu sei Sara Eve vedremo adesso dei frammenti nel tuo showreel spostiamoci subito in diretta streaming sulla nostra pagina di Facebook mentre per chi è alla radio torniamo un po' indietro nel tempo erano gli inizi degli anni 2000 e siamo andati a scomodare Ricky Martin e Cristina Aguilera Nobody wants to be lonely ce la ricordiamo questa canzone ma vogliamo vedere di più della nostra ospite vogliamo vedere Diana Dell'Erba in quelle che sono le sue performance per cui ecco che ci tuffiamo nel suo showreel Siamo corriandoli che danzano nel vento che si aggruppano che si girano intorno che si dividono che hanno colori diversi realtà di fondo si chiama così e come c'è finito lì? non lo so What a strange dream Maybe You know He's a strange guy A man of science He knows a lot about religion Kabbalah Even metaphysics He's a pure searcher with no prejudice Why didn't you answer me? I heard you but he didn't want to scream I was far from you trying to find a billet switch Maybe we are on the right track Or maybe It's just your imagination What Bafovi said Is true But the fact Is that the creature Is sometimes red Sometimes green Sometimes yellow And sometimes Has no color at all Siamo coriandoli Che danzano nel vento Da soli In gruppo Qualche volta in due In gruppo Qualche volta in due Siamo coriandoli Che danzano nel vento Diana Ma che meraviglia Questo showreel Questo patchwork Che lo sai come si dice Coriandoli in inglese Con una parola Con cui non intendiamo altro Divertentissimo Confetti Quindi c'è questo switch Mentre leggevamo Leggevamo le parole E interpretavamo questo Poi in questo modo E' bello bello Ma è sempre A me emoziona sempre Guardare gli showreel Perché per quanto siano Pezzi avulsi Dal loro contesto E tu vedi proprio Quest'attore Quest'attrice In questo caso In una dimension Mentre sei lì In quella visione Così credibile E ne vedi un altro Dice aspetta Ma chi è Mi confonde sempre E mi emoziona sempre Riuscire a dare I tanti volti A un attore Così come accade In questi In questi piccoli ritagli Che riassumono Poi così tanto Io però Devo chiederti Diana Se ci puoi concedere Qualche altro minuto Perché siamo a ridosso Di pubblicità Devi scappare via O ci puoi attendere Assolutamente Sto a piacere con voi Grazie Grazie mille E allora noi Facciamo quest'ultimo break Di giornata E poi torniamo Gli ultimi minuti Per Diana Anche perché Dobbiamo chiedere Se c'è qualcosa altro Che bolli in pentola Su che cosa sta lavorando Se ci può svelare qualcosa Ma lo facciamo Fra qualche istante Sempre qui su Radio In Radio In La voce della tua città Eccoci tornati qui A te che effetto fa Perché stavo poco fa Vi ho detto io La mia sensazione Dello showreel Però per un professionista Diana Sei abituata Sei lì che ti guardi E ti riguardi O quando ti rivedi Comunque è sempre È un diario Lo showreel è un diario Eh sì È un diario Da aggiornare Che non è sempre Facile Starci dietro Quello in realtà Quello che abbiamo visto Mi sono divertita A montarlo io Perciò ho creato Tutta una storia Sì Avevo tempo Mi piace molto Montare Molto bello Molto bello Non è tanto tempo Bisogna dedicarci Proprio È un atto Di grande cura No a me Sembrava un po' Di cucire In qualche modo Perciò Mi sono divertita La voce fuoricampo La musica azzeccata I testi Sono veramente Molto intensi E profondi È uno showreel Molto particolare In genere Ci sono dei frammenti Con un audio originale Questo è tutto narrato Quindi Mi è piaciuto molto Diana E si vede Che c'è tanta cura Complimenti Senti Andrete un po' in giro A presentare Il film Di Franco Nero Sì Sì Ognuno In posti diversi In città diverse Però tutto il cast Assolutamente Lo accompagnerà Per quanto possibile E poi Andrà in Rai Perché è una coproduzione Rai Perciò Vedremo anche In televisione Più avanti Pensi di Sbarcare in Sicilia Qualche volta? Lo spero vivamente Perché io sono Mezza siciliana Ah sì? Non lo sapevamo Da quale metà? Mio papà è di Adrano In provincia di Catania Sì Perciò spero vivamente Di poterlo portare O ad Adrano Direttamente O a Catania Quindi l'hai vissuta Questa Sicilia Qualche volta? Sì Sì Non abbastanza Quanto avrei voluto Però Comunque Basta andare Un paio di volte In Sicilia Per veramente Respirare Cibarsi E Timparsi di energie Poi io ho tantissimi parenti Tanti tanti cugini E zii Perciò E zie Perciò Poi da Adrano Vedi sua maestà Letna In tutta la sua Pienezza e bellezza Quindi Bellissimi paesaggi Bellissimi scenari Facciamo il nostro switch Così arriviamo alla domanda finale Sul futuro Puoi avvalerti Della facoltà Di non rispondere Diana In collegamento Con Diana Dell'Erba Mentre siamo qui Su Radio In Per il nostro Open Day Cinema Del martedì Mattina L'ultima domanda È sempre quella A cui facciamo fatica A farci dare Una risposta Su che cosa Stai lavorando In realtà Sto lavorando Su tante cose Ma volete Cinema Prontamente Ma dici tu Noi siamo curiosi Quindi Se c'è anche altro Con piacere Siamo abituati A una risposta Ma guarda Ho un patto Di riservatezza Ho firmato Un contratto Non posso accennare Nulla E quindi Abbiamo anche Una forte carica Depressiva Ansia Ansia da prestazione Di ultima domanda Depressiva Fai tu No Per quanto riguarda Il cinema Ho terminato Un cortometraggio Sulla Storia d'amore Tra Dante Gabriele Rossetti E Elisabeth Siddall Della Confraternita Dei pre-Raffaelliti Inglesi E Perciò Stiamo montando E finendo Questo corto Che è Molto artistico Molto poetico Andrà ai festival? Sì Speriamo Lo proponiamo Sicuramente Sia circuiti Artistici Di arte Che circuiti Invece cinematografici Bellissimo E invece Perché dicevi Perché mi hai detto Volete sapere del cinema? Perché mi hai fatto venire La curiosità Ti stai dedicando Anche ad altri progetti In altri ambiti? Sì Perché io ogni tanto Mi appassiono di cose Di argomenti Perciò divento pericolosa Soprattutto per me stessa Mi piace questa cosa Anche Liana Storce parecchio Due anni e mezzo fa Sono diventata mamma E mi si è aperto Un mondo Relativo alla nascita Purtroppo In Italia Non si nasce Molto bene C'è molta Molta sofferenza Intorno alla nascita E dunque Con Una grande Ostetrica Che Lotta Per questo Da tutta la vita Sto realizzando vari progetti Soprattutto podcast Per diffondere Un messaggio di speranza E dire alle future mamme Che in realtà Si può nascere molto bene Abbiamo la forza E tutte le capacità Dentro di noi Per farlo È bellissima questa cosa È bellissima Un impegno nel sociale Complimenti Nella femminilità E nel diritto Alla vita Anche perché poi In realtà Tutto ciò che accade Alla nascita È qualcosa Che ci portiamo dietro Nel nostro percorso di vita Purtroppo Noi occidentali Abbiamo un approccio Alla vita Molto pragmatico E molto di superficie In realtà E non ci rendiamo conto Di quanto Già i primi istanti Abbiano delle influenze Importantissime Sul nostri percorsi Per cui Avere un'attenzione Speciale a questo È importantissimo Diana In questo spazio Il martedì mattina Noi siamo concentrati Sul cinema Però se ti va Mi permetto Ivan Se ti va Anche in compagnia Dell'ostetrica Di cui ci hai Appena parlato Possiamo in futuro Magari Rincontrarci Per presentare Proprio questo podcast E per approfondire Questo argomento In un altro spazio Che dedicheremo Solo ed esclusivamente A questo Ti lancio Quest'invito E poi starate Raccoglierlo Se ti farà piacere Nel momento Che riterrai più opportuno Ti ringrazio moltissimo Con grande piacere Grazie Sarebbe veramente Ci tengo a te Tantissimo Quindi poi restiamo in contatto È molto bello Fate un approfondimento Ci sta Ci sta tanto Diana Noi ti ringraziamo Noi ti ringraziamo infinitamente Per essere stata intanto Qui con noi Andiamo al cinema Andiamo al cinema Ma prima di tutto il resto A vedere l'uomo che disegnò Dio per la regia Grazie a te Grazie a Ryuki In regia Sta arrivando Sara Priolo Sì non l'ho vista ancora C'è È qua È qua Niente Li abbiamo rubato anche oggi due minuti Per ora rubo due minuti a tutti Attenzione se avete minuti in tasca Perché frego minuti a tutti Cioè non c'è Non c'è spazio per null'altro Buona giornata Restate su Radio In Ciao Sinardino Ciao